L'arcipelago di Capoverde, formato da dieci isole, fu scoperto intorno al 1400 e prese il nome dal promontorio dell'attuale Senegal. Nel 1975 Capoverde diventa Repubblica Indipendente, finata allora a Colonia Portoghese. L'isola di Sal initialmente veniva chiamata Plana, l'isola piazza. Mentre Sal subentra dopo la scoperta di una laguna nel cratere di un vulcano spento, dalla quale dopo l'evaporazione dell'acqua marina si estraeva il sale. Con lo sfruttamento del sale inizia un'attività economica molto proficua, diventando esportatrice di questo prodotto fino alla metà del 1900. Nel 1939, su iniziativa italiana, sorse il primo aeroporto perché ci fu la necessità di un punto di scalo per i voli verso il Sud America. Nel numero sol pa' explicare il suo amore, che si non ha un motivo per i voli verso il suo di voi. Nel numero sol pa' explicare il suo amore, che si non ha un motivo per i voli verso il suo di voi. Nel numero sol pa' explicare il suo amore, che si non ha un motivo per i voli verso il suo amore, che si non ha un motivo per i voli verso il suo amore.